I denti non troverete qualcosa da mangiare, giù, è un antifurto sto bambino, ma come fai? Giù, buonasera, salve, allora per favore, due mini a colato, un'unica cola, un'acqua a colato, giù di me, si faccia presto e chiedevo, non ho capito, è all'inclusive, non ti preoccupare, vai, è all'inclusive, biglietta e cosa, vai, perfetto. Un applauso ragazzi.